Buonasera, grazie di essere qui con noi per questo terzo incontro di Fuori Gioco. Siamo partiti la settimana scorsa, abbiamo creato questa rassegna in collaborazione con il Comune di Pordenone, la Biblioteca Civica di Pordenone, siamo al terzo appuntamento, ma veniamo a questa sera. Abbiamo il piacere di avere con noi Pietrangelo Buttafuoco, lo scrittore, abbiamo qui il suo ultimo libro, sono cose che passano, ma noi questa sera parleremo di altro perché Pietrangelo Buttafuoco è anche la persona che ha curato per Longanesi questa antologia, il mio Leo Longanesi, nei 70 anni della casa editrice. Ringraziamo Pietrangelo di essere qui con noi e gli diamo il benvenuto a Pordenone. Grazie. E io, proprio partendo dall'antologia, ho letto che tu dici di essere cresciuto a Pane e Longanesi. Come nasce questa tua passione per Leo Longanesi? Ripeto il grazie, ha maggior ragione, ripeto il grazie a maggior ragione proprio in un florilegio tutto longanesiano. Lui nasce portandosi dentro più che dietro l'Ottocento ed è un ottocento dove le maniere, la forma, la composta educazione di un secolo si riversa su di lui attraverso un sentimento che è quello di gratitudine. Avere la consapevolezza quindi di una dimora, di una casa, dove le uniche cose brutte erano i quadri appesi perché recuperati nelle villeggiature e questo determinerà in lui una reazione tant'è che Leo Longanesi, sommo artista, sarà anche un grandissimo pittore. E Pane e Longanesi significa un'educazione, caro Mario. E' proprio quella che io mi sono ritrovato in casa quando bambino avevo vicino a me, come fetici, come oggetti, le collezioni di giornali che portavano il marchio di Leo Longanesi anche se non immediatamente fatti da lui, generati da lui, anche la stessa idea di comunicazione. Chi è dunque Leo Longanesi? E' in un certo senso l'artefice della nostra contemporaneità. Magari non lo sappiamo, nessuno glielo riconosce questo merito. E' ben difficile che possa arrivare una forma, un oggetto, un qualcosa che lo riporti a lui. Perfino la Vespa, perfino la Vespa, lo scooter italiano per eccellenza, o gli amari di una volta dove c'erano i leoni con gli occhiali, il ferrochino a Bisleri che campeggiava nelle dispense o nelle vetrinette degli speciali o dei farmacisti di una volta, perfino attraverso modi e forme che sono quelli di un saper vivere per le signore che veniva firmato da allora donna Letizia, che poi sposerà Indro Montanelli, ovvero Colette Rosselli, oppure il vero signore, i modi attraverso i quali si educava allo stile, che era quello che poi scrisse Giovanni Ansaldo con lo pseudonimo di Vili Farnese. Ecco, è un'Italia che ci ha attraversati, che ci è stata accanto, un'Italia che non possiamo dire di avere lasciato alle spalle, che è stato poi il dettaglio attraverso cui la nostra parola ha trovato forma. Se fosse vivo oggi, lui sarebbe assoluto protagonista di Twitter, perché aveva il senso stesso della sintesi. E l'espressione più cruda e più crudele che lui possa destinare a noi è quando individua la definizione di popolo. Il popolo non è mai, giammai, un leone mansueto, ma una pecora avvelenata. E questa definizione lui la coglie nel primo decennio del Novecento, quando appare la parola massa e di quella parola massa attraverso cui si erano concentrati i filosofi, i sociologi, gli artisti. Vi ricordate quella bellissima immagine che racconta la rissa in galleria da biffi? Quella bellissima immagine che in tutta la stagione del futurismo determinò poi anche la policromia, la capacità di dare movimento. Ecco, ne fece una sintesi perfetta in quella che poi era la condizione dell'italiano medio che si ritrovava ad essere borghese, piccolo borghese, borghese piccolo piccolo, le cui ambizioni meschine erano sempre sconfinate e si ritrova bambino a immaginarsi a scuola quando davanti al signor maestro sovrastato dalla lavagna si incanta come in un attimo di poesia dicendo prendiamo un punto nell'infinito o dall'infinito o sull'infinito o per l'infinito. Ecco perché pane longanesi, perché tutto ciò che noi pensiamo sia soltanto la composta messa in scena della parola si apre alla totale sovversione, romanticismo alla prova della modernità. Grazie. Ecco, longanesi, per dire con le parole di Montanelli, è riuscito a trasformare qualsiasi cosa facesse in un'opera di genio. Era pittore, era una forista, ma era anche che coniava slogan pubblicitari, era editore, scrittore, giornalista, è riuscito a fare praticamente qualsiasi cosa si fosse posto in mente. Cosa c'era dietro questo straordinario talento per farlo brillare in così tanti campi? Colonganesi succede come con il codice, una volta che c'è bisogna conoscerlo, se poi si tengono troppo d'occhio le pene vuol dire che poco interessava all'onestà. Lui ha questa capacità tutta sua di afferrare in un'Italia ancora rurale, in un'Italia in cui il selciato tra pietre e frasche si accompagna al rumore dei carri, dei carretti o dei passanti, un'Italia dove lui muovendosi per le strade individua quei negozi di cui conosce proprietari e clienti, individua poi anche quell'atrio, quel patio, quegli spazi dove la gente arriva, si ferma, il vociare stesso dei bambini riesce a intercettare e a capire quanto possa essere popolata una strada, un vicolo, ecco, la sua Italia, chi era, se non quella della grande provincia italiana, in una versione speciale che è quella di Romagna ed è quella che gli porta addosso gli odori, i sapori e soprattutto gli umori, è un cappellaccio che eredita, un cappellaccio, un cappelluccio vorremmo dire che era il tipico cappello che fa da uniforme alle guardie in camicia rossa garibaldina che era quello che eredita lui da uno zio, il fratello della madre che aveva fatto l'epopea dei mille e gli si riversa addosso tutto un senso di avventura dove si confondono le tigri di Monpracenne con Rosolino Pilo e Giuseppe Garibaldi, dove vanno a mescolarsi i racconti della battaglia di Mentana con quello che poteva arrivare da una eco che attraverso Salgari o attraverso Kipling porta da mondi lontanissimi perfino Pellerosa tant'è che quando poi avanti negli anni crescendo incontra altre avventure lui ritrovandosi in una Bologna che lo accoglie come se fosse il luogo della fantasmagoria unica lui riesce a dare ad ognuno il nome di una tribù di pelle rossa proprio perché era tutta avventura e cosa vuoi che faccio un ragazzo dagli occhi cui i labbi erano giallognoli inquietanti come se fossero parte di un qualcosa che non è un essere umano ma un animale e allora lui ha la capacità di lavorare di pennino e di bulino lui è capacissimo quindi di andare a individuare la perfezione della forma innamorarsi dei bodoni caratteri che accompagnano la composizione tipografica lui è poi quello che in 448 riesce a creare una rivista un giornale e le riviste i giornali a quel tempo avevano la velocità che adesso hanno per esempio i social tant'è che ne poteva sfornare tantissimi 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 fino ad essere adesso l'oggetto prezioso il graal inarrivabile da sempre cercato da tutti negli antiquari e nel modernariato libraio chi è lui? Lui è anche quello che riesce a essere pittore riesce a essere concertatore di polemiche ferocissime e perfino manesche perfino manesche perché ovviamente un ragazzo che ha avuto riversato addosso il senso stesso dell'avventura altra compagnia non cerca che quella di brutti ceffi con i quali discutere e la sua dialettica è sempre questa capacità di ascoltare e assorbire assorbire e quindi creare nel creare portare dei prodotti che diventano poi dei gustosi ghiottissimi bocconi che accompagnano la modernità e quindi tutto quello che arriva nuovo nuovissimo di pacca e lui di cui è il dominatore assoluto ne fa una confezione perfino sterile proprio a preservarsi dall'incubo che lo accompagnerà per tutta la vita sapete quale il progresso lui aveva inugia il progresso ne dubitava perché sapeva che il progresso avrebbe tenuto lontano i cappelli eleganti e i paltò e avrebbe tenuto lontano i bicchierini preziosi graziosi attraverso cui si accolgono i liquori che accompagnano i sapori gli umori e i pensieri di un mondo meraviglioso quell'ottocento che forse non è mai esistito se non nella sua testa e quel progresso lo preoccupava tantissimo al punto che lui cercava di fissarla e concentrarlo soltanto sotto forma di caricatura eppure con un'efficacia unica riuscì a essere nelle sue multiformi attività quello che per esempio negli Stati Uniti d'America ebbe ad accompagnare il successo di Bill Wilder cioè il creatore della commedia e allora sai chi era lui effettivamente lui è quello che va a completare il grande maestoso capitolo tutto di letteratura tutto di invenzione di immaginazione italiana e arcitaliana della commedia perché dopo Carlo Goldoni nella patria di Gioacchino Rossini Leo Longanesi va a completare l'occhio che di sbieco o sbilenco o disobbediente riesce a decifrare e a descrivere la realtà attraverso un dettaglio nella sua unica capacità induttiva di acchiappare quel piccolo tassello e a poco a poco rovistare il tutto che porta e racconta la messa in scena commedia mi viene in mente l'episodio quando cercano di coinvolgerno nella creazione di una nuova destra e lui per un dettaglio li cassa senza pietà proprio per i calzini di uno di questi personaggi che erano andati a proporgli questa nuova avventura ma lui ha questa capacità di osservare di vedere i cambiamenti in effetti lui riesce ad attraversare un periodo periodi molto diversi lui passa tutta l'ascesa e la caduta del fascismo la liberazione il dopoguerra e lui riesce sempre a portare a termine i suoi progetti riesce sempre ad essere efficace il rapporto di Longanesi con il potere con i meccanismi con quello che gli serve per riuscire ad arrivare a fare ciò che gli interessa il potere in Leo Longanesi passa attraverso la porta stretta dell'avventura deve avere quindi uno slancio un un innesco che crei l'incendio stesso dell'avventura e della disobbedienza se c'è un tratto che distingue e caratterizza l'opera di Leo Longanesi è quello di mettersi sempre in una posizione laterale per dire no il personaggio che più lo ricorda non fosse altro perché si accompagna a un difetto fisico era brevilinio era proprio basso era chiamato il nano di Strapaese si diceva di lui che quando era nervoso passeggiava proprio sotto il letto di lui si facevano battute terrificanti lui stesso diceva sono un carciofino sotto odio perché aveva questa consapevolezza proprio del difetto fisico il personaggio che più lo ricorda e lo descrive sapete chi è è quello che al contrario era alto possente importante perfino bello ma con un grande difetto quel difetto che non gli consentiva mai di lasciare cadere quanto di più prezioso ci sia nell'esistenza cioè la lacrima la commozione sul suo orrendo naso Sireno de Berzerac e come lui è quello che crea l'educata contrapposizione la garbatissima la formatissima disobbedienza del no grazie e Leo Longanesi è proprio l'apoteosi del no grazie spiegato agli italiani in una versione squisitamente romagnola lui aveva l'idea che tutto fosse una vicenda di Romagna e al modo romagnolo spiegava le sue cose attraverso quello che era poi anche il masticare stesso dei pensieri l'idea della grande proletaria che era l'invocazione carducciana che coincide lui in strapaese ed era tutto un sapersi inoltrare in una umanità tutta arcitaliana tutta strapaesana fatta di ascelle odorose e amore per le forme rotonde era questa sua stessa idea di sensualità che lo attraversava in lungo e in largo per avere questa specie di smania continua verso le donne alte altissime di cui lui era completamente succube perché le immaginava le sognava le cercava e la sua capacità era quella di andare a raccontare al modo che altri avrebbero detto degno di Groz altri avrebbero detto appunto ancora una volta con la commedia di Bill Wilder altri ancora avrebbero immaginato chissà in quanti suoi epigoni tutti epigoni tutti inferiori a lui Plaiano compreso perché la grandezza sua era quella di dare la possibilità di avere anche un atteggiamento non dico di compassione ma di di partecipazione viva anche con gli umili e i semplici personaggi che nella sua penna o che fosse pennello che fossero i caratteri tipografici enfi si gonfiavano come vesciche suine per poi avere intorno code di rondini tipiche dei frac di un tempo o cappelli lucidissimi che potessero raccontare ancora una volta questo festoso ottocento attraverso il quale lui il potere lo raccontava e lo svelava nella capacità di dare un senso alle cose ma sempre nella disobbedienza i suoi appuntamenti col potere furono innanzitutto certo l'avventura i mille Garibaldi la battaglia di Mentana e quindi questo mito continuo di un'Italia che veniva fatta da mille mascalzoni che se ne partono dal nord verso il sud poi risalgono poi s'apparecchiano un'esistenza a mezzo tra quello che poteva essere il contrattare con i preti oppure con sua maesta e re e quindi fare un'Italia un'Italia che potesse essere coerente con questa sua idea di strapaese e di grande proletaria l'altro appuntamento col potere fu con la sua Romagna con un romagnolo per eccellenza lui lo incontra che ha 30 anni lui è proprio un ragazzo quello ha 30 anni e lui se lo guarda perché magro magro col viso emaciato con gli occhi spiritati si guardano si riconoscono e si scambiano si scambiano quelle che possono essere le impressioni come solo chi è nato a bagna cavallo a lugo di Romagna e cresciute poi a Bologna trovata alloggio e l'altro che invece che da predappio seguendo poi quelle che sono state tutte le variazioni possibili del socialismo si restituisce all'anarchia e dice col suo solito tono emaciato smagrito di chi conosce soltanto la foga della politica vi riconosco dice Benito Mussolini a Leo Longanesi voi siete anarchico siatelo il più a lungo possibile è l'unica ricetta per restare giovani e lui dice signor si sente dentro di sé questo rapporto col potere per essere ancora una volta anarchico e quindi giovane il rapporto col potere con quel mondo fatto da un romagnolo creato da un romagnolo che va a Roma a costruire quello che i mille gribaldini avevano iniziato a fare si va poi a inverare in una scena che è ancora una volta commedia quando alla mostra della rivoluzione fascista sono convocati la creme il meglio tra gli artisti i grandi musicisti i pittori e poi gli scienziati e gli intellettuali i pensatori e i grandi burocrati tutti quanti in divisa in orbace col moschetto a montare di guardia davanti alla rivoluzione fascista l'unico a disobbedire è Leo Longanesi Leo Longanesi non vuole andare e allora Mussolini se lo convoca a Palazzo Venezia e gli dice Leo perché tu non vai a montare di guardia alla rivoluzione fascista Benito guardami non lo vedi quanto sono basso il moschetto è più alto di me che figura ci fa la rivoluzione fascista e questo ovviamente apre in una fragorosa risata la sala del mappamondo a Palazzo Venezia e il rapporto col potere e con quel potere lui lo risolve quando viene doppiamente interrogato interpellato catturato dagli uni e dagli altri cioè dai fascisti e dagli antifascisti arrivano quelli del Minculpop e lo accusano di essere antifascista e lui lì davanti a quelli del Minculpop comincia a rivendicare tutte le ragioni del suo essere antifascista lo acchiappano i partigiani e lui lì davanti a quelli rivendica tutto quello che fa di lui un fascistissimo perché ho fondato l'assalto perché io comunque sono stato con Farinacci sono stato con tutti quanti quelli che hanno partecipato ma soprattutto con chi era stato era stato con Italo Balbo quando lui in un momento di fronda era stato consigliato di ritirarsene in Libia dove il governatore Balbo lo accoglie e gli dà la possibilità di farsi una bella gita con Ettore Muti signori avete presente Ettore Muti era un omone alto meraviglioso possente importante Ettore Muti era bellissimo si diceva di lui che non ci fosse ricevimento con il corpo diplomatico di qualunque di chi che sia dove le signore non cadessero ai suoi piedi ma caddero ai suoi piedi anche che lo volevano sposare avevano offerto chissà quanti cammelli anche degli sceicchi che volevano con lui consumare delle notti di passione una cosa che indispettì tantissimo Mussolini dicendo ma come mai a me queste cose non succedono Ettore Muti dice ma perché tu non sei un bell'uomo come me e quindi ero un personaggio particolare che quando arriva in Libia con ospite di Italo Balbo trova il suo amico Leo Longanesi architettano uno scherzo particolare e cioè Longanesi era basso basso Ettore Muti era alto alto se ne vanno in gita per la Libia quindi in visita ai villaggi vanno ovunque ci fossero queste meravigliose oasi dove fare la loro passeggiata e allora architettano uno scherzo che è quello di far credere ai poveri indigeni che lui era niente meno che sua maestà Vittorio Emanuele III e l'altro fosse il suo attendente e vengono ricevuti con tutti gli onori ovviamente loro facevano finta di non esserlo ma quelli facevano finta di non darlo a vedere ed era tutto un continuo festeggiare di oasi in oasi quando arriva la notizia a Italo Balbo che cosa fa Italo Balbo anche lui romagnolo anche lui pratico di scherzi crudelissimi comincia a dettare un telegramma all'agenzia Stefani e alle altre agenzie dicendo che nel frattempo della loro visita Ettore Muti e il celebre Leo Longanesi fondatore dell'italiano avevano dovuto soccorrere una ragazza che stava annegando una ragazza libica che stava annegando nelle acque del mare e che il fondatore dell'italiano tuffandosi aveva portato in salvo per poi però morirne detta questo telegramma e Longanesi disperato comincia a mandare di nuovo la smentita dicendo che lui invece era vivo e vegeto Italo Balbo svela che in realtà aveva fatto lo scherzo che non aveva assolutamente mandato questo telegramma e lui invece mandava la smentita della sua morte dicendo no guarda gli fa vedere un telegramma dove c'era scritto che lui eroico aveva salvato questa ragazza e l'aveva riconsegnata alla famiglia con la festa della tribù eccetera eccetera e Longanesi allora comincia a mandare altri comunicati dove dava dei dettagli su qualcosa che ovviamente non era esistito se non nella loro fertile fantasia di buon temponi che ancora una volta confermano quale fosse la sua essenza e quindi caro Mario ancora una volta una risposta alla tua domanda sul rapporto qual è il rapporto col potere un rapporto squisitamente costruito su una sceneggiatura una commedia se c'è all'origine dello scherzo del crudele meccanismo della contrapposizione con amici miei bene quella è una pagina di amici miei firmata Leo Longanesi però abbiamo anche detto che lui amava definirsi un carciofino sottodi in effetti c'è il bellissimo il racconto del suo funerale che è emblematico pochissime persone uno sconosciuto il commento della figlia che testimoniano che era anche un carattere estremamente spigoloso estremamente difficile eppure nonostante questo carattere difficile lui ha fatto delle cose straordinarie è riuscito in tantissime imprese che richiedevano anche di creare delle squadre di lavorare in team come funzionava questo suo rapporto con gli altri io mi sono fatto un'idea pur avendo lui inugia il progresso pur avendo questo atteggiamento di distacco rispetto alla modernità in realtà lui è stato l'innesco e il volano della modernità in Italia che ci riguarda tutti perfino sul Moplen su qualunque dettaglio sulla messa in opera di quello che poteva essere anche la rete di comunicazione commerciale e lui fu protagonista nella pubblicità che all'epoca sua si chiamava reclame lui fu fondamentale in quello che poi nella comunicazione nel passaggio attraverso il cinema e poi la televisione portò a quello che doveva essere il meccanismo oggi si direbbe virale di contatto tra le singole esistenze e lo fece in un destino tutto italiano in un certo senso sai a lui venne a mancare uno dei viaggi che aveva programmato di fare e che non fece perché ci fu un periodo della sua vita e lui viaggiò tantissimo quindi assorbiva le esperienze non fece il viaggio che voleva fare e che aveva preparato da sempre che era il viaggio a Hollywood cioè lui lì avrebbe capito e fatto suo il segreto della cinematografia infatti è un longanese animato quello che si immagina ma poi la forza vera qual è? non c'è dettaglio della nostra vita sociale che non abbia un riferimento a lui a quello che ha fatto di cui nessuno ne ha consapevolezza certo c'è anche un atteggiamento rancoroso ostile è significativo che per esempio nella più importante collana editoriale che è quella di Mondadori dei Meridiani cani e porci hanno il meridiano non ci sia un meridiano per lui è significativo anche che non venga spiegato e raccontato mentre invece i grandi protagonisti del giornalismo perfino quelli a lui molto ma molto più lontani sono molto ma molto a lui vicini qualche giorno fa è venuto a mancare Carlo Gregoretti che è stato uno dei fondatori dell'Espresso il quale unico forse ha sempre manifestato la sua gratitudine e la diretta eredità da quella che poi fu la formula giornalistica inventata e creata da Leo Longanesi così come Eugenio Scalfari è figlio di quella storia di quella squadra e di quella idea di una certa idea dell'Italia raccontata attraverso il giornalismo oggi che siamo in un contesto e in una situazione in cui il giornalismo è diventato residuale non è diventato residuale invece il cinema non è diventato residuale la comunicazione neppure quella che passa attraverso la pubblicità neppure quella che passa attraverso il design perché lui ebbe l'intuizione di restituire al consumo un agio che fosse proprio quello della costruzione geometrica dell'oggetto noi in queste nostre giornate stiamo vivendo la cosiddetta stagione del vintage e il vintage che cos'è se non un modo tutto nostro di poterci accomodare in una chimera in una idea illusoria di avere un paradiso perduto da andare a riprendere bene tutto quel codice fatto di segni anche di colori anche di pennellate anche di oggetti in quanto tale perfino la vaschetta dello yogurt è concepita e disegnata da questo strano omino che fece sua tutta la stagione dell'ottocento attraversò il novecento in un angolo perfino inadeguato rispetto alla scena internazionale qual è l'Italia e c'è un argomento chiave secondo me che lo svela e cioè quello di avere veramente vissuto lui una eroticissima potentissima storia d'amore con una sua idea dell'Italia che coincide sapete con che cosa già con il perimetro segnato nelle carte geografiche lui aveva questa capacità tutta romantica tutta poetica tutta sua di sovrapporre al perimetro dello stivale al perimetro della penisola la figura del reduce con una gamba sola destinatario e partecipe di ogni guerra di guerre dove col nostro animo cattolico non siamo neppure capaci diceva di tradire fino in fondo reduci dunque di guerre la cui unica qualità esistenziale è affidata alla colpa nel senso del senso di colpa abbiamo avuto ospite la settimana scorsa Lorenzo Viganò che parlando di buzzati raccontava quando lui scrive sul suo diario 33 anni niente non era riuscito ad arrivare dove voleva e lui questa angoscia le riporta in quello che era un suo diario dei suoi giorni al Corriere della Sera che lui teneva nel cassetto e pensava di portare fino alla sua morte era quello scritto che lui chiamava la fortezza Leo Longanesi viene a sapere dell'esistenza di questo di questo scritto se lo fa consegnare lo passa a un editor l'editor lo ritiene impubblicabile e Longanesi cosa fa chiaramente lo legge lui lo pubblica e così di nubuzzati arriva a quel successo cui tanto anelava ma non è l'unica persona la cui vita è stata cambiata completamente dall'incontro con Leo Longanesi sono tante le persone che devono molto a questo incontro importante perché lui fu innanzitutto editore la casa editrice Longanesi che vi capiterà sicuramente di incontrare attraverso il suo catalogo nelle librerie è fondata da lui la fonda nel dopoguerra quando nel dopoguerra lui è considerato né più né meno che un personaggio da guardare con sospetto perché comunque non è gradito né agli uni né agli altri è il momento in cui lui ha anche fondato Il Borghese un settimanale avrà un grandissimo successo ma ancora una volta relegato nell'alveo del sospetto la casa editrice sua Longanesi conoscerà un grandissimo successo commerciale per esempio lui è quello che attraverso i meccanismi della modernità riesce a creare i cosiddetti pocket cioè dei libri economici di grande successo facili da leggere e con quelli lui per esempio fa un'operazione ne ricordo una su tutte di portare la filosofia a chiunque attraverso la pubblicazione della storia della filosofia di Bertrand Russell oltretutto un personaggio a lui totalmente lontano un pacifista inglese materialista scientifico praticamente un testimone dell'ateismo che trionfa nel mercato dell'Italia ancora una grande patria cattolica lui è anche quello che riesce a a solleticare i pruriti impudichi degli italiani pubblicando anche libri particolarmente o sé ed è quello che poi costruisce il successo e la gloria di tantissimi che se non avessero incontrato leo longanesi non sarebbero stati riconosciuti uno su tutti no ma me ne faccio anche altri esempi il mio conterraneo Vitaliano Brancati Vitaliano Brancati era uno scrittore innamorato della parola che fabbricava dei testi retorici ampollosi pieni di aggettivi e di passi tutti nel solco di uno stile d'annunziano e longanesi lo legge sbuffa butta tutto e gli dice ma fatemi il gogolino di Catania ma mi racconti le storie quelle lì dei seduttori e nasce Don Giovanni in Sicilia Paolo il Caldo la grande stagione che poi diventerà un aggettivo Brancatiano la stessa cosa lui che cosa fa ha un grande fiuto arriva Alberto Moravia gli consegna un suo manoscritto lui afferra il manoscritto e dice bello bellissimo quello dice ma se non l'avete letto non ti preoccupi lo consegna all'editore e gli dice la parte di sotto mettila in testo prendi l'ultimo capoverso e lo metti in testo perché Moravia è come certi cappotti la parte buona è quella rivoltata e in effetti gli crea il successo un altro grande capolavoro un capolavoro della letteratura italiana è Il cielo è rosso di Giuseppe Berto dove lui inventa il neorealismo applicato alla letteratura insomma la sua capacità era tutta di una fabbrica di generosità lui aveva idee idee e dava le idee aveva fiuto e su quel fiuto costruiva il successo agli altri e questo suo modo di costruire l'editoria ovviamente ancora una volta conferma quello che poi inaspettatamente l'Italia senza mai rendersene conto ebbe a beneficiare cioè quello di aprire le porte alla modernità e aprì le porte alla modernità al punto che ne determinò poi un un grande successo commerciale di cui beneficiano ancora oggi con una casa editrice qual è la Longanesi che è tra le più autorevoli tra le più importanti ed è soprattutto beneficiaria di quello che era poi lo spunto chiave di Leo Longanesi lo spirito critico e la libertà in una sola parola la disobbedienza ma c'è anche un'altra relazione che è andata avanti era uno dei presenti al funerale al funerale non c'era tanta gente viene raccontato che erano familiari erano pochi intimi e c'era uno sconosciuto andarono a chiedere chi era questo sconosciuto e lui era l'ammiratore e gli dissero beh sei l'unico che lo può amare senza remore perché sei l'unico che non ha provato la sua frusta ma tra quelli che provarono la sua frusta c'era anche Indro Montanelli sì ovviamente tra le tante generosità e tra i tanti personaggi creati delle Longanesi c'è anche Indro Montanelli ovviamente Montanelli poi gliene riconobbe tutto il merito tant'è che gli ha dedicato uno dei libri più belli su 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 leo Longanesi erano anche amici ma appunto ne sentiva la frusta un altro sodale amico era Giovanni Ansaldo Giovanni Ansaldo fu un grande oltretutto della famiglia Ansaldo dei genovesi costruttori di Genova i grandi la grande famiglia industriale Ligure Giovanni Ansaldo si conoscono quando Ansaldo è già famoso è uno dei giornalisti di riferimento di Galeazzo Ciano e anche per capirci Giovanni Ansaldo era quello che è oggi Paolo Mieli quindi era una figura a metà tra il grande giornalista e anche lo storico aveva questo standing molto importante quando si incontrano i due si ritrovano a pranzo Ansaldo è una buona forchetta sono prodighi di aneddoti e di racconti poi fanno una passeggiata per andare a visitare le rispettive redazioni e passeggiando passeggiando si prendono in antipatia si guardano e Lunganesi dal basso verso l'alto gli dice Musac lei è proprio uno stronzo e Giovanni Ansaldo lo guarda e dice e tu sei un nano si guardano in Cagnesco stanno per venire alle mani quando invece non ce la fanno più cominciano a ridere e da lì nasce una storia un sodalizio professionale d'amicizia unico che poi anche nel dopoguerra quando gli uni e gli altri subiranno le epurazioni gli allontanamenti proseguiranno in un'attiva effettiva collaborazione ma Indro Montanelli è quello che certamente raccoglie l'eredità di Leo Longanesi si firma con lo pseudonimo Antonio Siberia sulle pagine del Borghese Montanelli si stacca da quella che era la condizione il contesto di un'editoria di nicchia che però è anche popolare che però fabbriche il successo ma è comunque guardata in Cagnesco per seguire il suo destino di grande inviato di grande firma nei grandi giornali quando ancora una volta incontra quello che è l'ostacolo fondamentale in Italia sempre dispensato del dividere tra serie A e serie B incontra perfino le pallottole delle Brigate Rosse viene gambizzato ma in tutto questo Indro Montanelli dal punto di vista professionale manterrà sempre questa gratitudine nei confronti di di Leo Longanesi pubblicherà pure per la casa editrice Longanesi ma il loro capolavoro perché è un capolavoro di vera e propria criminalità di delinquenti come mai se ne possono immaginare è quando insieme Longanesi e Montanelli acchiappano Quinto Navarra che era stato cameriere di Benito Mussolini e fabbricano con lui un libro le memorie del cameriere di Benito Mussolini che sarà un grande successo commerciale un grande successo editoriale ovviamente con i metodi e i modi propri di due grandi protagonisti del giornalismo che riescono a fare di ogni aneddoto pagine e capitoli meravigliosi irresistibili i due insieme saranno una coppia formidabile in un certo senso coerente con quello che poi è il nome e il cognome di Leo Longanesi che cos'è è un cognome che si porta dietro il Leo e così erano i due in coppia uno alto altro basso basso sembravano ripetere lo schema del cognome lungo lungo che si porta da presso il nome piccolo piccolo e si ritrovano tutte e due in una Roma nell'immediato dopoguerra dove in un 25 aprile c'era una manifestazione di partigiani a quel punto erano diventati tutti partigiani era una manifestazione di facinorosi ferventi onusti di medaglie che reclamavano giustizia democrazia libertà e quindi mai più l'orrido ventennio nero quando irresistibile la voglia dello scherzo dello sberleffo e della disobbedienza i due trovandosi in mezzo a tutta quella folla non sapendo come fare ma quando con un guizzo Leo Longanesi acchiappa una sedia sale sulla sedia la sedia non è sufficiente mette la sedia sopra un tavolino e quindi sale sul tavolino e poi sulla sedia indicando Montanelli dice prendetelo tutta la folla si ferma e lui fa è un antifascista abbiamo parlato molto dell'attualità di Leo Longanesi ma mi piacerebbe pensare che tornando a casa poi chi lo conosce di meno possa iniziare la lettura c'è chiaramente la tua antologia può essere un buon punto di partenza ma qual è un percorso di libri di Longanesi che consiglieresti a chi magari lo conosce meno vuole affrontarlo e vuole capirlo più che un libro è un album una vita è una serie di disegni che lui accompagna con brevi didascalie disegni disegni che riportano per esempio in vita zia Iride che era la figlia del suo zio Garibaldino una donna brutta come la fame descritta da lui che però aveva con sé quel tratto di struggente malinconia fatto anche di cipolle rancide e poi nei suoi disegni lui porta in scena una struggente epopea di sconfitti mai redenti e per completare in questa sequela di disegni e di descalie la scena di un qualcuno che non c'è ma che indossa degli abiti laceri e che stringe con le mani che non ha e che accompagna con il passo che non ha e che guarda col volto che non ha una bandiera che comunque smunta lacera strappata racconta e descrive la presenza di un'assenza come poteva essere lavorare alla redazione del Borghese i nomi sono straordinari i nomi sono straordinari e anche la filiazione che ne ha fatto sono straordinari bisogna ricordare comunque una cosa che lui è veramente stato il seme che ha fatto germogliare il meglio nel giornalismo nell'editoria nell'arte non c'è quadro di Morandi dove non sia non ci sia un confronto con il pennello di Leo Longanesi così come allo stesso modo non c'è verve polemica che non si accompagni a quello che era stato il suo codice di vita sociale e questo vale per la politica vale anche per il dibattito culturale vale per quello che è stato il grande racconto di un'Italia che forse non c'è più ma lui ha fatto ha fatto germogliare per esempio anche attraverso le pagine del giornale che dovette fondare Indro Montanelli cioè il giornale quando venne cacciato dal Corriere della Sera un giornale che aveva l'impronta e il tratto tipico di Leo Longanesi basti pensare alla pagina culturale del giornale che anche oggi anche oggi malgrado il crollo totale del giornalismo è l'unica pagina che obiettivamente rappresenta un tratto distintivo perfino nel giornale di oggi le pagine culturali del giornale sono le più belle ma perché nascono da quel mondo lì perché quando Montanelli fonda il suo giornale sapete aveva nella cosiddetta terza pagina il meglio del meglio di tutta Europa cioè il più il meno importante era Nicola Bagnano figuratevi tutti gli altri aveva Ernest Junger aveva Vintiloria aveva Eugenie Ionesco aveva Ernest Junger aveva radunato tutta una serie di personaggi che erano tutti figli di una stagione che era quella di Longanesi nella cerchia dei longanesiani chi c'era per esempio c'era Harry First un americano che aveva vissuto l'avventura di Fiume con Gabriele D'Annunzio volontario con D'Annunzio a Fiume che era il marito di un'altra grande straordinaria protagonista della critica di costume del giornalismo che è Orsola Nemi con Leo Longanesi si mette in moto una certa idea di Italia che coincide con una certa idea di Milano e quindi con una certa idea attraverso la quale quella che è la caffeina d'Europa con le parole di Marinetti poi si invera nella stagione della Milano da bere che arriverà fino agli anni 80 e dove l'unico argine di libertà e di spirito critico ancora una volta è figlio della sua storia è bellissimo parlare di Longanesi per un motivo perché non lo conosce nessuno e nessuna consapevolezza di come tutti i codici a cui facciamo riferimento derivino da lui se posso permettermi posso mi autorizzare assolutamente io ci tenevo a fare una considerazione che poi ho utilizzato nel libro il mio Longanesi ed è una definizione che è quella dell'italiano assoluto cioè io mi sono chiesto in un'Italia come la nostra dove e i fatti di queste ore lo dimostrano dove non c'è sovranità in realtà noi siamo come diceva quello lì un'espressione geografica in questa espressione geografica comunque ci sono gli italiani e esiste secondo me un modello che è l'italiano assoluto che ha l'antitesi rispetto a qualunque cortile a qualunque provincia e quindi a qualunque provincialismo e che riesce a essere partecipe della contemporaneità dell'universalità e di di saper seminare un qualcosa che poi darà i suoi frutti e io ci ho pensato lavorando su Longanesi a chi assomiglia lui e io mi sono dato delle risposte assomiglia per esempio a un artista come Gino De Dominicis di cui adesso pochi hanno memoria ma gli studiosi e poi chi si avvicina all'arte contemporanea ne ricava i benefici di un percorso che resta e che resterà a chi assomiglia a un altro grande artista ed è Carmelo Bene che ha rappresentato nella storia del teatro nel mondo intero un'azione innovativa oltre la rappresentazione forgiata tutta sulla pulizia della parola che diventa suono a chi assomiglia dunque questo italiano assoluto a colui il quale senza grandi sforzi riesce ad avere su di sé nella sua parola per esempio torquato tasso che è difficile da scoprire da immaginare possa essere nel sentimento diffuso o un Giovan Battista Vico che è difficile immaginare di trovare nel sentimento diffuso o i tanti che per esempio in quel patrimonio inestimabile quali sono le innumerevoli chiese di tutta Italia attraverso gli affreschi le opere rappresentano quella stessa idea di un'Italia che sa guardare in alto anche attraverso i dettagli artigiani nella lettera alla figlia del tipografo apparentemente uno scritto minore c'è il contenuto di un qualcosa che è materiale che è oggetto io ricordo ero ragazzo quando Piero Buscaroli uno dei suoi allievi mi insegnò uno dei suoi trucchi che era quello di mettere insieme dei fogli farne un pacchetto rilegarlo e dare e dare il senso plastico del contatto con qualcosa che è cosa ma da cui aprendolo vengono fuori i mondi la capacità di dare all'immaginazione questo volano tutto di fantasia vedete probabilmente lui ha pagato pegno perché non è considerato coerente con lo spirito del tempo non so quanti tra voi ricordano la famosa vignetta di Giovannino Guareschi reduce dal campo di concentramento lacero sporco affamato incontra un passante e al passante chiede dove vai il mondo e il passante dice a sinistra e Guareschi risponde beh allora io vado a destra e a proposito di destra perché se ne è fatto carico Leo Longanesi ed è quello che nessuno gli perdona vi voglio leggere questo piccolo frammento a proposito di destra prima Mario ha ricordato il momento in cui non facciamo i nomi andarono da lui chiedendogli la possibilità di mettersi alla testa alla guida di questo grande movimento che potesse coi circoli del borghese incendiare la maggioranza silenziosa e lui che era attento ai dettagli appunto osservò notò i calzini bassi e dice mo io vado a fare la grande destra con uno che ci mette i calzini così e a proposito la destra grande o piccola che sia la destra e lo sappiamo in queste ore si scopre atlantica perché c'è sempre un momento in cui gli americani si concedono alla gradevolezza mediterranea e c'è questa scena catturata da Leo Longanesi ed è quando il comandante supremo dell'alleanza atlantica in alta uniforme attraverso quello che è il suo trucco fondamentale cioè la macchina fotografica lo scatto la fotografia perché lui dice ed è vero ed è dogma la fotografia si legge l'articolo si guarda lui pubblica questa fotografia il comandante supremo dell'alleanza atlantica in alta uniforme colto nel momento in cui cala l'occhietto nella conturbante scollatura di Sofia Loren appena ventenne Longanesi che fa in pagina l'istantanea in quello che fu un inserto meraviglioso che fa epopea ed epica era l'inserto fotografico del borghese e micidiale come era nella secchezza delle didascalie scrive immaginate immaginate la scena quella in alto uniforme che guarda la scollatura Sofia Lorna appena ventenne Florida come non mai e c'è scritto il contributo dell'Italia allo sforzo difensivo della Nato grazie 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 posso rubare ancora un istante la vostra attenzione io ne approfitto sempre nelle occasioni pubbliche ed è una raccomandazione che voglio farvi ovviamente farla a Pordenone è superfluo però non guasta facciamola magari parlando al telefono con amici che stanno altrove trasmettete questa raccomandazione che è semplice mi raccomando abbiate cura e difendete col coltello tra i denti le librerie difendetele difendetele nei vostri quartieri nelle vostre strade difendetele ovunque perché sono i luoghi in cui attraverso le parole attraverso questi parallelepipedi che poi si aprono e portano le parole si aprono i mondi della libertà e dello spirito critico e poi difendete col coltello tra i denti anche i teatri perché lì l'architettura e la costruzione della parola diventa scena e va difesa e difendete col coltello tra i denti le sale cinematografiche difendete quindi i luoghi dove ci si vede ci si conosce ci si riconosce e c'è la possibilità di poter far sì che la parola non sia soltanto vento ma diventi cosa e la cosa sia costruzione e la costruzione fabbrichi le città e nelle città si torni a essere liberi specialmente dopo aver attraversato un tempo totalmente inedito in cui mai 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 l'umanità ebbe a smettere di vivere per la paura di morire mai grazie grazie a tutti grazie a tutti